che casino ciao voglio un computer da gaming con le lucine allora guarda abbiamo diversi modelli con le lucine si si ok ok però abbiamo intel amd con le lucine ok però scheda video con tante lucine ok ma memoria quelli forti hanno le lucine alimentatore più lucine hai più sei forte voglio un computer da gaming con le lucine rgb ok ti faccio vedere quello che ho tanti rgb no mi servono più fps mi servono più lucine più lucine grazie a tutti Grazie a tutti.